Eccoci qua! Vediamo, vediamo in questo video come conquistare le ragazze difficili. Entra nella loro testa, prendi nota. Allora, conquistare le donne difficili, le ragazze difficili, richiede autenticità, pazienza e comprensione. E' importante rispettare l'individualità di ogni donna e non farti percepire come uno che va alla ricerca di un trofeo da conquistare, perché innescheresti i meccanismi di difesa. Ci sono alcuni suggerimenti che ti do per entrare in sintonia con le donne che sembrano più difficili. Allora, la prima cosa è, sii naturale con queste donne, non entrare in stato di emotivo. Devi trattarle come tratteresti un elettrodomestico, diciamo, senza darle considerazione. Vale un po' la regola. Tratta una donna bella e difficile come tratteresti una ragazza brutta e facile, cioè non la dai considerazione, e viceversa. Questo per interrompere gli schemi. Non cercare in nessun modo di cambiare la tua personalità, di essere condiscendente, non cadere nei suoi shit test. Ah, ma tu che macchina hai? Io vado col trattore. Ehi, ma tu dove abiti? In una palafitta. Ehi, ma che lavoro fai? Serial killer, per dire. E quindi gioca, pigliela in giro, pigliela per il culo. Seconda cosa, ascoltala attentamente e in modo tale da cercare di capire quali sono i suoi turbamenti, perché più glieli amplifichi, meglio è. Tieni presente che se tu riesci a beccare un suo punto debole, così parlando, amplificarlo, magari ha un problema di esistima, un problema, che ne so, di qualunque genere, tu parli di quella cosa e parlandone le dai emozioni, le amplifichi. Molte donne difficili, belle, sono problematiche, sono piene di problemi, pigliano psicofarmaci, insomma. Oppure no, però qualche problemuccio ce l'hanno. D'altra parte devi dimostrare in questo modo empatia. Però dimostri empatia, perché lei si sente capita, però nel frattempo le amplifichi molto le emozioni. Non dimostrare interesse per lei. Fottitene assolutamente. È lei che deve cercarti. Quando ha capito che tu puoi dare le emozioni, vedrai che lo farà. Ogni tanto fai qualche gesto carino nei suoi confronti e ogni tanto non farlo, in modo tale da creare le confusioni. Ecco, vedrai che diventerà molto, molto più facile fartela. Ciao! E se il video ti è piaciuto, metti un like, condividilo con i tuoi amici, iscriviti al canale attivando la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. E ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare. Abbonarsi è facile, basta andare nella home page, tastino abbonati.